Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Cresce l'attesa a Fano per il concerto di Francesco De Gregori, dalla donna cannone a generale e l'omaggio a Bob Dylan. Ecco la festa dei quattro cantoni, come non l'avete mai vista prima, e da Sagra si trasforma in una gara. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Buonasera cari telespettatori di Fano TV. Immaginatevi di rientrare a casa, magari dopo aver trascorso una serata tra amici, e di trovarvi faccia a faccia con i ladri. E' quello che è successo ad una coppia di Fano. Sentite com'è andata. Se la sono vista veramente brutta, la scorsa notte due coniugi fanesi che dopo una serata passata fuori, al loro rientro in casa, si sono trovati faccia a faccia con due banditi che poco prima avevano fatto razzia nel loro appartamento. Momenti concitati dove i ladri, vistasi la via di fuga sbarrata, sono passati alle vie di fatto e dopo aver sferrato un pugno alla donna e caricato il bottino nell'auto di grossa cilindrata, anch'essa rubata, hanno tentato, senza tanti complimenti, di investire il marito per darsi alla fuga. Oggetti d'oro per alcune migliaia di euro e un armadietto blindato con tre fucili da caccia e due pistole, armi regolarmente detenute, ciò che i due si sono portati via nella loro fuga. Fuga di breve durata perché, di lì a poco, sono stati intercettati da uno volante della polizia. Durante l'inseguimento i ladri si sono sbarazzati dell'armadio blindato, ancora chiuso, e poco dopo, vistisi ormai scoperti, hanno abbandonato anche l'auto e si sono dileguati a piedi, facendo perdere le loro tracce, nonostante altre due volanti si siano messe sulle loro tracce. Recuperato l'armadio blindato con all'interno le armi e l'auto rubata. Le polizie e i carabinieri hanno arrestato in due azioni distinte, un 34enne di mercatello sul metaro ed un 25enne pregiudicato macedone. L'italiano, un operaio sposato e con una figlia, è stato trovato in possesso di 54 grammi di cocaina dalle indagini emerso che era a capo di una fiorente attività di spaccio in varie località dell'entroterra. Il macedone, invece, un operaio edile, residente a Lunano, è stato arrestato in flagranza di reato mentre storceva denaro al titolare di una ditta con minacce e intimidazioni. In tutto 30 mila euro l'italiano è finito agli arresti domiciliari, mentre il macedone nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro. Un incendio senza gravi conseguenze ha interessato all'alba l'azienda di Laterizi Pica a Pesaro. Secondo i primi rilievi, le fiamme si sarebbero sprigionate dal filtro di un silos e hanno alimentato una densa colonna di fumo visibile anche a qualche chilometro di distanza. Nessuno degli operai è rimasto ferito né intossicato e l'incendio è stato velocemente spento dai vigili del fuoco. La produzione è ripresa regolarmente. Ormai siamo abituati a raccontarvi di furti di ogni genere. Ce n'è stato uno che ha interessato uno stabilimento balneare. Lino Balestra. Siamo ai Bagnermes, a Torrette, dove i titolari sabato mattina hanno avuto una spiacevole sorpresa. I ladri erano stati qui. Un fatto che si ripete anche da tempo e infatti loro lanciano un grido d'allarme perché come sentiremo fra poco dal titolare questa cosa crea non poca apprensione e soprattutto negli ultimi tempi la cosa ha avuto una certa recrudescenza. Qui siamo proprio nel deposito dei Bagnermes che custodisce i lettini. I ladri sono entrati probabilmente da una stradina laterale, si sono introdotti in questo deposito e li hanno portati via proprio da qui. Allora, sabato mattina, spiacevole sorpresa, siete venuti per aprire la giornata e i ladri vi avevano fatto visita. Purtroppo sì, venerdì notte abbiamo avuto un furto in spiaggia, si sono spariti una sessantina di lettini ed è stata una, devo dire, una brutta sorpresa, non ce l'aspettavamo. Ecco, diciamo che non è la prima volta, è capitato anche a altri tuoi colleghi che gestiscono spiagge qui vicine. Dà un po' di insicurezza questa cosa, al di là del valore che comunque c'è. Certo, dunque il valore economico è sempre un fatto importante per le attività commerciali come sono le nostre. Però dall'altra parte c'è anche un problema legato a una sicurezza, come giustamente dicevi te, non soltanto per noi ma in generale. Infatti purtroppo anche dei miei colleghi, dei colleghi Bagnini, hanno avuto lo stesso problema e poi è un problema che in generale nella nostra località negli ultimi anni ha avuto un po' un'escalation. Nel senso che questi episodi ultimamente, negli ultimi anni, sono aumentati, non soltanto sulle spiagge ma anche su altri settori come case private o hotel. Ecco, sarebbe anche, tra virgolette, facile poter attuare dei controlli, visto che Torrette ha un'unica via d'accesso, un'unica via d'uscita. Quindi avete chiesto anche di poterla monitorizzare questo accesso. Io spero e mi auguro che se questo fosse possibile, o l'amministrazione comunale in accordo magari anche in collaborazione con noi operatori o con le forze dell'ordine o con qualcosa, sia possibile creare un sistema per almeno cercare di monitorare e dare un'immagine un po' più sicura alla nostra zona ma anche a tante altre zone. Insomma, cercare di capire se ci sono dei sistemi per raggiungere un obiettivo di sicurezza maggiore. È morto ieri all'età di 83 anni Donotello Gaetano Cini. Era nato a Cagli il 24 settembre del 1933 ed era stato ordinato prete a Tarugo di Cagli l'8 settembre del 1965. Le esequie saranno celebrate dal Vescovo Armando Trasarti martedì alle 17 nella chiesa di Tarugo. Dopo il nostro servizio, con le immagini delle mura del Pincio imbrattate e discritte, l'amministrazione comunale di Fano ha deciso di avviare un piano di recupero totale del monumento storico tra i più importanti e rappresentativi della città. Abbiamo visto purtroppo immagini di degrado e di scempio al Pincio. Diventa una priorità a questo punto? Abbiamo una recente giunta. Il Pincio ha proprio elencato le priorità di intervento prima della fine dell'anno a livello di progettazione per sbloccare poi i finanziamenti. Il Pincio è sicuramente uno dei primissimi punti perché l'area va riempita di contenuti, va migliorata dal punto di vista del controllo e poi serve anche in generale, lo dico, una campagna di sensibilizzazione perché chi magari con grande leggerezza compie i gesti che compie non si rende conto dei costi sociali che questo comporta perché i ripristini su beni monumentali sono estremamente costosi. Ma al di là di tutto serve che quel luogo diventi centrale nella vita di Fano, venga utilizzato e venga controllato. Quindi si parlerà di videocamere di sorveglianza, si parlerà di un intervento sulle siepi che occludono molto il controllo e però stiamo affinando adesso con gli uffici tecnici appunto la strategia di intervento. Però vorrei in qualche modo tranquillizzare che è una delle priorità che l'amministrazione ha segnalato. Nuova vita e nuova veste per una delle feste storiche della città di Fano, i quattro cantoni, che da Sagra diventano gara. I quattro cantoni tornano con una nuova veste e nuovi contenuti ed anche se in realtà sono cinque, rappresentano tutte le anime storiche della città di Fano. Allocate sapientemente nei punti che più si prestano alla bisogna, si potranno rivivere il periodo romano, quello malatestiano, oppure calarsi nell'atmosfera della Fano dell'Ottocento, oppure in quella più viscerale del porto, o vivere gli sfarzi dei nobili e blasonati lustri cittadini fanesi. Cene a tema ed eventi collegati al periodo inerente. E novità di quest'anno la gara fra i cantoni, per aggiudicarsi il primo trofeo messo in palio dalla direzione artistica dell'evento. Quattro cantoni non è una festa tanto così per dire, ha una radice ben precisa. Sì, ha una radice ben precisa, non deve essere una festa così per dire, deve avere un vestito veramente importante, in modo tale che perlomeno all'inizio la provincia, ma anche la regione, parli di questo evento. Perché noi siamo rimasti un po' indietro su questa cosa. Se riusciamo a portare gente a questa cosa qua, facendo partecipare, io penso che sia una cosa molto molto bella. Ecco, c'è anche una gara, una competizione, per stimolare un po' la creatività dei singoli partecipanti, e insomma cittadini del cantono. Sì, perché io ritengo che la gara sia importante nella vita, perché il gareggiare, anche se poi non si vince, ti porta a migliorare, a fare cose che... Io infatti vedo che ci sono già dei cantoni che si sono mossi, facendo fare delle cose belle, importanti, per poter vincere questa coppa. Penso che la gara sia veramente necessaria. La tipicità, la tradizione di questa festa è un modo sicuramente per aumentare e migliorare il racconto della città, a chi ci viene a trovare, ma anche ai cittadini, perché i luoghi individuati sono appunto la condensazione dei momenti storici più importanti della città, i tipi di vita, i tipi di ceti sociali, anche che fanno avuto nella storia. E poi l'unire la tipicità dei costumi e delle epoche con l'enogastronomia, penso che sia una bella formula. Il 4-5 di agosto potranno sperimentare le varie... E dunque staremo a vedere. In attesa di rivedere la Fano dei Cesari, così come era una volta con la mitica Corsa delle Bighe e la grandiosa sfilata in costume romano, nella piazza centrale della città si sta preparando quella per far divertire i più piccoli, ovvero la Fano dei Cesarini. Torno alla Fano dei Cesarini, tanto attesa quest'anno la quarta edizione, ma ci sono davvero tante novità, prima di tutto il luogo. Sì, decisamente, tante novità, tante cose volano in pentola, come si suol dire. Sì, il luogo, il luogo a differenza degli anni passati, che l'abbiamo fatto sempre qui a Sant'Orso. Quest'anno abbiamo l'onore di poterlo fare in piazza 20 settembre, per noi è veramente un gran piacere, vedremo poi di far divertire il più possibile sempre le famiglie e i bambini presenti sul posto. Ovviamente i bambini saranno i protagonisti, ma quest'anno avete coinvolto anche associazioni, quindi insomma cose in grande. Sì, ecco, c'è stata l'idea un attimino di modificare un po' la scaletta, i piani tradizionali. Quest'anno abbiamo coinvolto i centri estivi, i centri aggregativi, parteciperà sempre l'Avis, che poi è la dedentrice del titolo della corsa delle bighette, però ci saranno anche altri così, tipo la battaglia per la Dea Fortuna, insomma, per mettere un po', diciamo competizione, ma non è così cattiva la cosa. In competizione comunque i centri estivi, questa battaglia dove i bambini si affronteranno, usando un po' il gioco dello scalpo, per chi lo conosce, che con questa rincorsa al fazzoletto si determinerà il sopravvissuto. Dunque non mancheranno momenti di divertimento, di aggregazione, appuntamento in piazza 20 Settembre, a partire da che ora? Dunque noi cominceremo con due mini sfilate dalle 18 lungo il corso per entrare in piazza 20 Settembre, perciò direi dalle 18 ci sarà questa battaglia per la Dea Fortuna, ci sarà la corsa delle bighette, ci sarà uno spettacolo danzante di Mattia Diamantini, grande spettacolo del fuoco alla fine della serata e il trimalcino. Questa cosa simpatica, è lo stesso per tutti quei bambini che vorranno, ci sarà la possibilità di prenotarsi e usufruire della distribuzione cibo del burger. Io vi aspetto il mercoledì 20 luglio dalle 18 in piazza 20 Settembre, rigorosamente costume romano, i bambini li ritengo da 0 a 90 anni, perciò non do, sono adulto, non voglio essere, ragazzi, ci siamo per divertire, non badiamo i numeri, il nostro successo sarà far divertire quelli presenti, possono essere 10 come possono essere 100, l'importante è che chi c'è se lo ricorderà. La coluna di Cato Certo, più di Cato Certo, domenica di grandi emozioni, in piazza 20 Settembre, l'orchestra sinfonica Rossini ha reso omaggio al genio musicale di John Williams, uno dei compositori più blasonati al mondo per le sue colonne sonore e grazie alle quali ha vinto 5 Oscar, 17 Grammy e 3 Golden Globes. Grandi emozioni per tutti, grazie anche alla presenza sul palco di 50 componenti dell'orchestra, diretta dal maestro Roberto Molinelli, che per meglio entrare nella parte, sulle note di Star Wars, ha messo da parte la classica bacchetta da direttore d'orchestra e ha diretto i suoi orchestrali con una spada laser. E domani sera le luci del palco di piazza 20 Settembre saranno tutte per Francesco De Gregori, che canterà le sue più belle canzoni di sempre, dalla Donna Cannone a Buonanotte Fiorellino Generale, poi i brani del suo nuovo album. E naturalmente l'omaggio già anticipato, annunciato al cantautore Bob Dylan, un'occasione unica per i suoi fan di vederlo interpretare in italiano i successi del menestrello statunitense. Per ascoltare De Gregori sono attese centinaia di persone provenienti dalla Romagna, dalla Toscana e dall'Umbria. Domani il bottiglino di Corso Matteotti sarà aperto ad orario continuato e sarà possibile acquistare biglietti fino a pochi minuti prima dall'inizio del concerto. Per la rassegna dialettale Teatro Sotto le Stelle invece all'arena BCC che si trova a Tre Ponti di Fano la compagnia i Comediante porteranno in scena Pareventanza La Grasse all'inizio dello spettacolo e per le ore 21. E prima di salutarvi vi do un altro appuntamento lo vedete e lo guardiamo insieme attraverso questa immagine e si tratta di un'iniziativa del passaggio a Fano di Maria di Nazareth al Monastero delle Benedettine un appuntamento che è già iniziato domenica proseguirà fino a domenica prossima da lunedì a venerdì 22 alle 6 del pomeriggio ci sarà il Santo Rosario con la consacrazione a Maria poi c'è anche la Santa Messa poi sabato 23 luglio alle 17 e 30 la Santa Messa con la consacrazione a Maria e poi domenica 24 luglio alle 10 del mattino ancora Santa Messa e consacrazione a Maria poi c'è anche la testimonianza di Anicetto Battani ed è tutto grazie per aver seguito il nostro telegiornale a voi tutti l'augurio di una buona serata arrivederci grazie a tutti a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.